Dopo settimane di discesa costante con sette nuovi casi emersi dai test nelle ultime ore risalgono in Abruzzo gli attualmente positivi al covid-19 che dai 156 di ieri arrivano a toccare quota 159. Il totale regionale dei casi sale così a 3.305. Delle persone al momento malate solo 28 sono ricoverati in ospedale, non ci sono pazienti in terapia intensiva, tutte le altre persone sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 2.682, non si registrano decessi recenti, il bilancio delle vittime infatti è fermo a 464. Sono 109.379 i test eseguiti da inizio d'emergenza, i nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila e sono due, a Chieti altri due e a Pescara tre. Il nuovo incremento dei casi dal 26 giugno ad oggi se ne registrano 20 in più, di cui sei ieri e sette oggi, non preoccupa però gli addetti ai lavori. Il primario di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, Giustino Parruti, componente della task force regionale per il coronavirus, parla di una normale oscillazione di un virus che è ancora presente. L'impianto del sistema di controllo posto in essere, sottolinea Parruti, deriva dal fatto che il virus è tutt'altro che defunto, la circolazione mondiale in questo momento è infatti altissima. Il sistema impostato consente di intercettare, spiega ancora Parruti, il fenomeno così da poter restare tranquilli. Un alto numero di tamponi, il concetto di andare a caccia del virus, tutto è finalizzato a far sì che non ci siano cluster e infatti questi nuovi casi, conclude Parruti, non rappresentano un cluster. Fondamentale, secondo il medico, è l'utilizzo delle mascherine oltre all'adozione del distanziamento sociale, che restano i pilastri della prevenzione. Altrimenti, continua il dottore, qualsiasi caso reintrodotto potrebbe generare un problema. Alle oscillazioni dei dati, però, conclude l'infettivologo, dobbiamo abituarci.